Sia lodato Gesù Cristo Ciao fratelli e sorelle Eccoci qui al Vangelo di Oggi con fra Stefano Il Vangelo del Giorno, lunedì 6 settembre Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! Preghiamo! O Padre che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen! Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca Gloria a te o Signore Un sabato, Gesù entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. C'era là un uomo che aveva la mano destra paralizzata Gli scribi e i farisei lo osservavano, per vedere se lo guariva in giorno di sabato, per trovare di che accusarlo. Ma Gesù conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano paralizzata «Alzati e mettiti qui in mezzo» Si alzò e si mise in mezzo. Poi Gesù disse loro «Domando a voi, in giorno di sabato, è lecito fare del bene o fare del male, salvare una vita o sopprimerla?» E guardandoli tutti intorno disse all'uomo «Tendi la tua mano». Egli lo fece e la sua mano fu guarita Ma essi fuori di sé dalla collera si misero a discutere tra loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù». Parola del Signore Lode a te o Cristo C'era un uomo con la mano destra paralizzata. Una situazione che compromette molto la propria possibilità di lavorare, di agire liberamente. Ricordo per esempio il disagio quando molti anni fa mi ero rotto un osso della mano destra proprio e avevo dovuto tenere il gesso per un bel po'. Sono quelle situazioni in cui una persona sente che potrebbe fare molto di più se non fosse per quel problema, quel problema che ti blocca, ti paralizza, ti impedisce non solo di fare quello che vorresti, ma anche ti impedisce di essere quello che vorresti. Nella sinagoga attorno a questa persona ammalata nel corpo ci sono delle persone paralizzate nel cuore degli uomini apparentemente sani, ma in realtà sono persone che hanno i sentimenti e l'intelligenza paralizzate, incapaci di avere compassione e anche incapaci di comprendere. Cos'è più importante aiutare un uomo in difficoltà o rispettare una norma religiosa? E la malattia dell'anima è più grave di quella del corpo L'uomo con la mano paralizzata torna a casa guarito Gli uomini religiosi tornano a casa incattiviti più di prima La rabbia, la durezza di cuore ci paralizza Non ci permette di essere quello che vorremmo essere Non ci lascia la possibilità di fare i progressi che vorremmo fare E da questa infermità interiore che oggi Gesù ci vuole guarire Ascoltiamo la sua voce, tendi la tua mano, apri la tua mente, apri il tuo cuore Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen! La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore Il Signore sia con voi Vi benedica Dio onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo. Amen! Ti auguro di cuore una buona giornata e una buona settimana E un carissimo saluto e un sincero grazie a tutti L'ascolto del Vangelo porti luce e pace nella tua giornata Ciao ciao Abbi cura di te